via il gruppo già allungato stasera dobbiamo tenere i 4 all'ora siamo al tramonto ormai sarà quasi tutto al buio comunque bene dai via il gruppo già sgranato ma si va i partecipanti di stasera tutti i partecipanti di stasera eccovi qua gruppo finito la scopa scopa nuova stasera discesa in valle vivice ormai i trekking con il sole cominciano a diventare rari si fa buio presto a e Musica Luca va a fare la via degli Dei in tre giorni, con il suo amico che fa un trail da montagna insomma, quelli corrono però, a piedi il gruppone siamo in media e tra un po' si aspettano le crescentine, vamo! bene gruppo eccezionale stasera, siamo arrivati mezz'ora in anticipo alle crescentine, bravi bravi bravi, vorrei chiedere un applauso a noi stessi ma mi danno, non l'ho dita nessuno, ma mi danno una soddisfazione, guarda, bravi bravi bravi, saluta a casa, chiudiamo il video, alla prossima domenica!